Un saluto da Alex Guarini di Trebimeteo.com. Ci aspetto una domenica di bel tempo su tutta l'Italia grazie all'anticiclone dell'Azzor che prenderà pieno possesso del nostro paese. Guardate infatti nella grafica i cieli in gran parte sereni o poco nuvolosi da nord a sud. Entriamo intanto nel dettaglio partendo dalle temperature minime che non subiranno particolari variazioni congelate ancora una volta sull'arco alpino e su nord appennino. Per quanto riguarda le massime queste sono in aumento sulle regioni settentrionali e su quelle del versante tirrenico con punte davvero gradevoli fino a 22 gradi tra Valpadana e Polesine. Ma entriamo quindi nel dettaglio per il nord che vedrà cieli in gran parte sereni o poco nuvolosi per velature in transito sulle zone di pianure e lungo i litorali mentre ci saranno dei cumuli a sviluppo verticali ma di poco conto sui settori alpini. Al centro situazione analoga con velature in transito da ovest verso est nel corso della giornata e questi innocui addensamenti cumuliformi nelle ore diurne in prossimità della dorsale appenninica. E infine al sud bel tempo prevalente su tutte le regioni con cieli in gran parte sereni salvo innocui cumuli pomeridiani in prossimità dei rilevi calabro-lucani ma poi avremo un aumento della velocità graduale tra la serata e la notte sulle isole maggiori con anche il rischio di qualche debole piovigine sul sud della Sardegna nel corso della notte.